mmmh facciamo più liquido allora? no, conviene farne un altro questa è la metà che state facendo? però non lo mischiamo adesso, sennò poi si rompono i fantastici spaghetti di mele vieni frullati lo passi il coperchio del frullatore che ho progetto lì? angelo fai vedere i spaghetti spaghettata mela ariana ma santo sopproni ora misco le mele non hai idea qual ce l'hai tu con alcuna rossa? aspetta fa vedere che non so perché sennò sembrano corti guarda si allunghi ci sono? dove? il garage vieni qua vabbè vabbè bravo di mele bravo di mele